A voi la scelta Attivazione assemblaggio stampa Controllo qualitativo Ok Io Jason non è responsabile per eventuali difetti Sgomberare l'area di assemblaggio Ecco fatto Ok, ha funzionato Adesso raggiungi il pannello di controllo e apri la cella Arrivo La stampa Yu-JC Vi augura buona giornata Grazie 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 L'ho trovato Funziona Bene, arrivo subito Elias è sicuro che sia quella giusta Tirami fuori di qui Cosa ci fai tu qui? Che sta succedendo? Tu lo sapevi che era lei, è la persona che cerchiamo Senti, sapevo solo che qualcuno poteva aiutarci, ok? E perché dovrei aiutarvi? Sono qui da una vita So tutto di questo posto e sono in grado di portarci all'hangar Ascolta, tu richiami una navetta E lui ci porta via da qui Possiamo farcela, dobbiamo solo rimanere uniti Grazie, ma me la caverò da sola Vuoi un consiglio, però? Non fidarti di lui Non è chi sembra Attenzione, continuamento di emergenza in corso Elias! Ti giuro, Jacob Non sapevo fosse lei Credevo sapessi tutto di questo posto Sì, lo credevo anch'io E adesso? Sei in trappola finché la cella non attracca Perciò io posso raggiungere il treno E tu no! Adesso... No, va bene Mi servi al trattamento rifiuti, d'accordo? Chiamami quando sei lì Trasferimento dati completato Aspetta Cos'era quello? È qualcosa che ti aiuterà Abbi fiducia nel piano, ok? Ehi... Non, va bene No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Già, ci ho lavorato tante volte. Una vita fa... una vita fa... Ti riporteremo a quella vita. Devi solo seguire il piano. Significa che devi portare il culo alla cupola Habitat. E come cavolo faccio a raggiungerla? Non dico che sarà facile, ma ho un asso nella manica. E che cosa sarebbe? Una volta ci lavoravo. Raccoglievo materiale di ricerca. Ho fatto delle registrazioni e il software che ho caricato nel tuo core le attiverà al momento giusto. Seguile e arriverai alla cupola. E poi cosa? Ti preleverò alla stazione. Semplice. D'accordo. Ti contatto io. No, non potrai. Vai sottoterra. Non avrai segnale fino alla cupola. Benone. C'è altro che non mi hai detto per caso? Datti solo una mossa. C'è un portellone lì nei dintorni. E buona fortuna, Jacob. Sì, anche a te. Sì, anche a te.